ciao ragazzi come va? cheers da canale Bellavis spero tutto bene allora facciamo un aggiornamento sul bari aggiornamento sul bari oggi che è 4 luglio 3 luglio 3 luglio ancora non si sa niente non non parla nessuno nelle informazioni contraddittorie della stampa barese dalle informazioni contraddittorie si vince che Polito praticamente non è rintracciabile ha spento il cellulare sapete qualche giornalista che prova a chiamarlo qualcuno che prova a capire come come si procederà come si procederà ci sarà il ritiro a Roccaraso quello che è sicuramente una notizia ufficiale credo dall 11 luglio dall 11 luglio che comunque aspettiamo la aspettiamo la l'ufficialità su questo no aspettiamo nel 12 luglio 12 dal 12 luglio quindi la prossima settimana c'è il ritiro mercoledì prossimo 12 luglio c'è il ritiro mancano 4 5 6 6 giorni lavorativi tolto la partenza diciamo quattro giorni lavorativi questa settimana per capire di che morte dovremmo morire come si dice un proverbio a bari no? e ho ricevuto dei miei commenti all'ultimo video che ho fatto commenti molto molto interessanti per la situazione bari da un lato mi è stato detto che giustamente tanta la delusione ci si aspettava ci si aspettava che si andasse in serie a e quindi una botta per tutti per i giocatori che pensavano che avrebbero fatto la serie a ed è difficile ripartire insomma per la società che pensava di fare la serie a molti giocatori magari stanno guardando intorno per andare a fare la serie a da qualche altra parte e c'è Carl Socher che mi scrive che la nostra società ha dimostrato di saper costruire dobbiamo fidarci di più in questo periodo si lavora sotto traccia e secondo lui è giusto non fare proclami perché adesso qualsiasi parola detta verrebbe caricata al massimo dalla piazza quindi lui dice è giusto che adesso ci sia un po di silenzio la ruota gira per tutti anche per voi anche se sembra nero quanto si quando quando si vince dopo questi traumi si gode il triplo grazie cara per il bellissimo commento un altro tifosore cagliari enrico derio 366 che ringrazio mi scrive che quello che sta succedendo al bari credo sia normale sarebbe successo anche a cagliari bisogna realizzare tutto da zero e si sapeva o va in serie a o sono guai o va in serie a o sono guai tutti vorranno tutti vorranno andare via come normale è sfumato un sogno vuoi cambiare aria perché è stata una batosta allucinata e non è più entusiasmo i giocatori forti andranno via perché volevano una serie a e allora andranno a cercare in altre squadre anche il cagliari non credere stia meglio la serie a è tosta allora o fai come la cremonese che come il monza che investe tanto oppure fai la fine della cremonese il prossimo anno avremo bisogno di fortuna tutti tutte e due le squadre sia noi che loro sia noi che il cagliari quindi ringrazio caral soccer e enrico derio 366 per questi bellissimi commenti anche molto razionali molto pensati scritti con condizioni di causa scritti con conoscenza delle trame calcistiche anche nelle serie cadetta che è una cosa molto rara molto difficile grazie mille continuate a seguirmi mi raccomando e allora da una parte questo silenzio può essere l'assicurante secondo gli amici cagliaritani dall'altra il tifoso ha bisogno di informazioni io vi ho detto non meno di dieci quince giorni fa che secondo me caprile andrà via che dira può darsi pure che andrà via e miniani è molto in bilico non è sicuro che miniani viene sui tuoi vi viene 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 confermato secondo me 50 e 50 ancora o è più vicino anche se la stampa dice che sono messi sono messi già un po d'accordo lui è pulito mancano gli ultimi dettagli naturalmente la prossima stagione sarà durissima e hanno hanno rinnovato il capitano di cesare certo rinnovare di cesare devo dire che è anche troppo facile perché insomma è una bandiera è un giocatore che non può più andare da nessuna parte perché c'è l'età e magari hanno rinnovato a poco non so i dettagli del rinnovo però è una 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 botta di fiducia per dice essere ma secondo me a livello societario a livello di business a livello calcistico è un'operazione semplice tutte le altre sono non sono semplici si parla di giocatori vicino a bari di q da enderson due dal cerignola golda niga è apparso così di sfuggito niente di così importante però sappiamo che è pulito sa tirare gli assi dalla manica molto molto bene e complimenti a lui io seguo a volte la stampa barese ma la stampa barese a volte sui giornali anche più importanti c'è un articolo e poi c'è l'articolo sotto che dice il contrario di quello che dice sopra quindi datevi anche una regolata in questo senso stampa barese perché dobbiamo essere la stampa all'avanguardia non possiamo essere il giornaletto del paese che scrive cose così e mi riferisco a tutto bari in questo caso punto com chiudo con ha rilasciato le dichiarazioni di onigi ex tecnico del cosenza delle dichiarazioni curiose ragazzi volevo farvi partecipi di queste di queste dichiarazioni allora ha detto che l'anno prossimo vede sei squadre al vertice parma palermo cremonese spezia samp doria parma palermo cremonese spezia samp doria prevede il brescia se verrà ripescato il brescia in serie b dice di ogni g cellino farà sicuramente una scuola per andare in serie allora di ogni g1 il brescia non merita di stare in serie di per demeriti sportivi merita la serie c ok perché il brescia ha fatto un campionato riprovevole questa non ne ha presi sei a bari ok quindi dire che il brescia che sta in serie c e che non merita assolutamente di fare la serie b farà un campionato da vertice in serie b se venisse ripescato mi sembra un po al di là di ogni fantasia e poi di ogni g in queste 5 che hai detto mi sembra che dimentichi qualcuno dimentichi qualche squadra però vedo che sul tuo profilo instagram ci sono anche account di magazine baresi o pagine baresi che ti seguono e l'anno scorso cosenza bari hai perso 1 a 0 abbiamo sbagliato un rigore al terzo minuto a casa del cosenza quando l'allena di tu poi abbiamo fatto un gollazzo poi hai fatto un paio di azioni e poi nel secondo tempo non è passato il centrocampo si è andato ai microfoni dicendo il bari una squadra che gioca così una squadra fortunata vengono a fare la solita partita quando nel secondo tempo non è passato il centrocampo quando il bari si è mangiato un gol al secondo minuto sul rigore quando siamo passati in vantaggio e fatto due azioncine che ha messo una palla in mezzo eh e quale sono le dichiarazioni che vai a fare è l'arbitro che sempre dalla parte loro il bari viene a fare queste partite così intanto il bari per due minuti andava in serie a quest'anno il cosenza si è salvato ai danni del brescia che tu dici che diventerà la squadra da vertice ma come si fanno a fare queste dichiarazioni di onigi tutto qua ragazzi prendiamo coscienza la consapevolezza è tutto aspettiamo aspettiamo delle informazioni dal bari delle informazioni perché sappiamo che sappiamo che la serie b dell'anno prossimo sarà difficile ma noi siamo abituati il bari di migliori di polito massimari storicamente abituato che tutto è difficile quindi non niente facile quindi ci siamo abituati di marzo ha detto che il bari riparte da polito e migliani che l'accordo è vicino quindi speriamo bene ragazzi ripartiamo da polito e migliani li partiamo bene anche se poi giustamente servono i giocatori è tutto qua tutto qua fondamentalmente fondamentalmente ci aspettiamo ci aspettiamo delle belle notizie nei prossimi giorni visto che prossima settimana parte ritiro e qualche allenatore dovrà andare a costo ritiro no dovrà andarci qualcuno perché i quattro sono tornati a ultimo ultimo passo sul sul santo sulla samp doria visto che gioca i giornali titolano la samp riparte da benedetti pilo riparte da benedetti allora se la samp aveva qualche possibilità l'anno prossimo di fare qualcosa interessanti sarebbe con la nuova notizia che pirlo sarà allenatore secondo me ne perde un po perché lo dico da mo pirlo era tanto forte dal giocatore quanto scarsa da allenatore quindi come sono le cose adesso pirlo è una sicurezza per gli altri ok più di una sicurezza per gli altri abbiamo tanti campioni che provano a riciclarsi in serie b girardino gli è andato bene facendo quel calcio anticalcio grosso ha fatto un bel campionato però ha lasciato il frosinone e attenzione anche a grosso che mi sembra da quello che ho detto che stia libero insomma poi nesta mi sa che ha preso la reggiana in serie c e però però questo pirlo a me non mi convince proprio alla samp non mi convince proprio perché vuole fare un calcio propositivo è interessante però non si è mai visto granché come allenatore e gli allenatori si vedono subito gli allenatori si vedono subito fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale un like un polliccione se vi è piaciuto il video forza bari fatemi sapere cosa ne pensate grazie a tutti i ragazzi che mi commentano e che mi sostengono grazie alla prossima cheers